44. Non cesseranno di incarnarsi. 86 milioni di piccoli soldati, di manovali, braccianti, di bambini che maneggiano bombe e mitra più grandi di loro, cazzuole e picconi pesantissimi per le loro braccia, aratri e badili. Ma 86 milioni sono solo i baby lavoratori ufficiali, in realtà sono molti di più, diverse centinaia di milioni. 85. Così in alcuni stati asiatici, africani e dell'America Latina, metà dei teenageri invece della scuola frequentano le guerre locali, le officine, i campi agricoli, i pascoli, ma anche i bordelli e le miniere. Commento Finché quei paesi non usciranno dalla loro stretta evolutiva e quindi sociale e politica, in quei paesi non cesseranno di incarnarsi entità che diventeranno bambini lavoratori.